Aspetta un momento, aspetta i ratti, in piedi, si accomodi, in piedi, si accomodi, aspetta i ratti, in piedi, si accomodi, in piedi, si accomodi. Ricorda se quel pomeriggio si trovava al parco Falcone e Borsellino, ricorda più o meno a che ora si era recato al parco Dino, era mattino o pomeriggio Dino, si, che cosa ha fatto quando è arrivato al parco? Scusi? Ho preso il fumo, l'Ashish. Ha comprato del fumo? Sì. Ricorda da chi ha comprato del fumo? Da un ragazzo punesino, marocchino. Ricorda quanto Ashish aveva? No. Ricorda quanto Ashish aveva comprato? Cinque euro, dai, due canne, dai. Due uomini in borghese l'hanno detto polizia tira fuori la roba, lei che cosa ha fatto? Tira fuori la roba. Tira fuori la roba. Che roba? La roba. Tira fuori la roba. Che roba? Il fumo. Ah, il fumo. Le hanno chiesto gli agenti poi di consegnare la sostanza, l'hanno perquisita? No, l'ho tirata fuori io. Ma gliel'hanno chiesto loro? Eh, sì, sono arrivati lì, tira fuori la roba, la roba è di eroino, io gli ho detto io non c'ho la roba, no, tira fuori la, ok, tieni, gliel'ho dato. Lei ricorda su quale autovettura è salita? No. Ma era una macchina, diciamo, con della polizia? Sì, sì, che ho scritto tira fuori la roba. C'era scritto tira fuori la roba. Che roba, il fumo, ovviamente. Tanto ricorda in quale ufficio è stato portato? Eh, no. Un po' è passato anche Bonsu, cioè ragazzi di colore, ed era tutto strappestato, ma guarda, cioè era chino, ha manettato il viso chinato, ma guarda un attimo, ho notato che era strappestato, cioè saccagnato, cioè era messo male, cioè. Scusi, allora, era, ha detto stra? Saccagnato. Negro di merda, tira fuori la roba. Che roba, il fumo, va bene. Allora le devo fare una contestazione. Eh, va che dobbai. Ma domani, io chiedo che almeno nei confronti dell'avvocato ci sia un rispetto. Almeno nei confronti dell'avvocato. Sì, ho capito, però non posso dire che c'è... Stia a sentire, stia a sentire me. No, che dobbai. Ne è mai capitato? Allora posso? Allora, io ho fatto la strada, allora il palo è una cosa da film. In pratica al palo, c'è cos'è? Uno che sta fermo e guarda se arriva la polizia. Ma lui era da sodo, gira in bici e vedeva lui se c'era la polizia al palo e gli arma. Buongiorno a tutti, amici. Ieri è uscito Pokémon GO. Oggi vedremo, come avete letto dal titolo, come scaricarlo. Dunque, siamo qui nel bagno di casa mia, come potete ben vedere. E oggi vedremo appunto come scaricare Pokémon GO in pochi semplici passaggi. Ricordo che questo è il metodo manuale. Ed è per l'appunto qui che andrà a finire l'applicazione. organic...